Beh, intanto, buongiorno. L'agricoltura è una grande sfera, una grande madre, che ci consente uno sviluppo più armonico, senza il quale questa nostra terra sarebbe assai più triste. E il ritorno di tanti ragazzi, tante ragazze all'agricoltura è spiegato in due ragioni, secondo me. Uno, perché rende liberi, rende consapevoli, rende più fantasiosi, all'aria aperta, in mezzo alla natura, all'ambiente. E secondo, perché immediatamente le proprie fatiche, le proprie fantasie, le proprie intelligenze vengono viste crescere e realizzate. E questo, secondo me, è un fenomeno del tutto particolare che solo l'agricoltura può dare. Inoltre, consente nel rapporto anche con gli animali, con il rapporto con il cibo che si crea, anche un'armonia per tanti ragazzi, per tanti adolescenti, per tante persone magari meno fortunate, che però in un ambiente, in un contesto in mezzo alla natura, in mezzo al verde, in mezzo all'agricoltura, si rendono più sereni, magari sono meno ansiose, si rendono più felici, meno tristi. E soprattutto si vince quell'ansia che spesso ci pervade nelle città, nelle grandi metropoli. E soprattutto è un enorme contributo a uno sviluppo più armonico. Senza la madre terra, appunto, il nostro paese sarebbe, i nostri paesi sarebbero più tristi e soprattutto avremmo delle tensioni formidabili. Quindi, questa iniziativa è davvero straordinaria. C'è tanta intelligenza, c'è tanta fantasia. L'agricoltura e il cibo consentono di esplicarsi e quindi, in qualche modo, di essere più liberi.